Puntuale è arrivato nel tanto pomeriggio il maltempo su tutta la provincia erpina, tempesta di fulmini su Avellino e temperature giù di 8 gradi. Fino a lunedì la situazione non dovrebbe cambiare, infatti tutta la settimana sarà caratterizzata da rovesci temporaleschi e schiarite. I venti si manterranno moderati e la temperatura almeno fino al prossimo inizio di settimana non dovrebbe superare i 15 gradi. Satigas, diffida dalle imitazioni.